Abuso di alcol, consumo di droga, dipendenza dal gioco d'azzardo, fenomeni in crescita nei piccoli centri del Cosentino che rovinano sempre più la vita dei giovani e delle famiglie. Ieri sera se ne è discusso a Tortora nel corso del convegno tutti i volti delle dipendenze tenutosi nei saloni della chiesa Stella Maris, ad organizzarlo l'Associazione Territorio Ambiente e Cultura e il parroco del Comune Alto Tirrenico, Don Antonio Pappalardo, tra i relatori il procuratore della Repubblica di Lago Negro, Vittorio Russo. Non basta evidentemente un approccio solamente repressivo ma c'è bisogno di un'interdisciplinarità perché questi che sono fenomeni poi sociali devono essere affrontati in una maniera più globale, più complessiva e credo che si stia lavorando poi in questa direzione pure a livello governativo, a livello legislativo. In questi casi la prevenzione è la migliore arma di contrasto vista la misura del fenomeno, come sottolineato da Alberto Datto, la responsabile del CERT di Lago Negro. È un trend in crescita costante in questi anni, poi abbiamo i periodi in cui abbiamo degli allarmi, delle emergenze, ma questo sta a significare che quello delle tossicodipendenze è un settore in mano ai narcotrafficanti, quindi abbiamo dei momenti in cui aumenta il consumo di eroina piuttosto che di cocaina. Però qui stiamo assistendo è proprio il dilagare di quelle che tra virgolette chiamiamo nuove droghe, che poi tante nuove non sono, sono nuove per quello che è l'attenzione dei mass media, della società. Mi riferisco all'alcol che è un problema dilagante, emergente. Noi ci troviamo nel pieno di una emergenza per quello che è il problema dell'alcol. In prima linea il parroco di Tortora, don Antonio Pappalardo, che con questo convegno ha voluto abbattere quel muro di omertà e vergogna dietro cui si nascondono le vittime delle dipendenze. La parrocchia non vive solo quello che è l'aspetto puramente liturgico o spirituale, ma la parrocchia deve avere anche il coraggio, come ci hanno sempre insegnato, che deve scendere anche sul campo. Ed ecco allora da dove è nata un po' l'idea, collaborato anche, sollecitato dalla sensibilità di altri miei collaboratori, di voler intire questa giornata attraverso anche degli esperti che ci aiutano e nell'eventualità ad essere prevenienti dinanzi a quelle che sono le dipendenze che purtroppo vengono ogni giorno sempre di più denunciate, come ha detto lei, e nell'eventualità anche come a poterne uscire fuori. Grazie